Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono ThunderOfficial e oggi in questo video siamo tornati belli carichi su Brawl Stars perché finalmente abbiamo raggiunto quasi 500 visualizzazioni di video, anzi vi faccio prima vedere, tanto va bene, lo potete vedere anche voi comunque sul mio canale è uscito 5 ore fa, quasi 6 diciamo, un video su come scaricare Mario Kart 8 con il simulatore, diciamo proprio, non simulatore, emulatore Wii U per PC che si chiama CEMU quindi trovate il link in descrizione di questo video, anche del canale, è mio, e siamo a 89 iscritti quindi raga dai, vediamo di arrivare a 100 iscritti perché mi piacerebbe arrivare a questo traguardo quindi abbiamo fatto 19 like, 2 dislike, grazie, e 473 visualizzazioni, quindi dobbiamo arrivare a 500 visualizzazioni assolutamente quindi scusate se parla troppo veloce ma questo oggi sono carico e quindi ho venuto giocare parecchio a Brawl Stars Friend Online, Crawler, non più ho provato la sfiga comunque, nell'ultimo episodio eravamo rimasti con i Brawlers con Shelly al 3, Nita al 3, 2, Colt al 1, Poco al 2, e questo non l'avevo trovato abbiamo sbloccato Barney che tira una specie di booting di vileno poco lo abbiamo mingherato al 4 e tanta roba diciamo e poi, eh sì, sono scritto partito democratico perché ogni volta mi piace mettere dislike aaaah lol, lol che figo poi abbiamo, io vorrei sbloccare il primo, che è davvero potente Scegli al 5, l'ho uppato stamani Nita al 4 e Colt al 3 quindi questa è la parola di spagna con Shelly al 5, proviamolo proviamo Shelly al 5, non l'ho mai provato al 5 ho portato solamente al 4 al marzo scroll, quindi, come facciamo? devo dedicare, dai, 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 no comunque eravamo partito bene, eh andiamo, dai, 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 dai fantastico fantastico, l'ho detto in italiano l'unica frase, forse e al 5 dai, zi, vai, 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 cattatevi un anti-dravo un orso che ha alleato l'orso quindi non vi preoccupate ok che scherzo fa ingio di merda dai dai ragazzi arriviamo altri 10 like che vi svolge un altro episodio carico di brutta mi raccomando oggi mi sento carico e l'ultima kill si è aperto play store è anche alto perché utilizzo molto di più shell una star key possiamo aprirci anche una brawl box andiamo ad aprirla e live una brawl box vediamo un po' 20 d'oro 4 venita e 6 poco vabbè dai non è tanto poco avete capito ma che cazzo come per dire che cazzo ho fatto un altro e stavolta utilizziamo barli e ho sbloccato questo ieri non ho avuto farlo bene comunque so che tira veleno una specie di veleno non come quello però sono simili e poi ci sono uguali sono che il mio a livello 1 e il mio a livello 2 o 3 non ne ho idea vai 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 raccata diamanti randito 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 molto più grosso mamma mia Beh, la velena ti è arrivata E ti ho ammazzato, ho fatto una kill Quindi No E che Cristo Vai, 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 muori Kill Fammo lì in a kill, dai Dai, dai, dai L'ho preso Ma sono morto Comunque l'ho preso Benissimo 60 Tra un po' possiamo poi un altro Brawl Box Quindi usiamo ora Di nuovo Barley, dai Perché no Dai, dai, dai Che sto giusto Non so perché Tanto nel giro il corpo E voglio consumare Naci un grosso Calo E' bello che appoggiato Poggiato 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 brutta merda 5 milioni di visualizzazioni dobbiamo sfondare il like cerchiamo almeno di arrivare a 10 mi piace ma ci conosci sono una belle non c'è n'abbene ma troppo non c'è ma non c'è Niente, comunque ce la siamo giocata. Basta non per finire una Brawl Box. Eccola qua, 50 loro, 6 Colt, che tra un po' posso fare 4. Mono, 6 poco. E 3 Gemmels. E' abbastanza buono, comunque dai. E' tanta roba, eh? Comunque, e qui... Brawl Box. Allora. Beh, questo non mi interessa. Possiamo aprirci una Mega Box? Dai, vabbè. Lo faccio solo per voi, eh, però. Cazzo, Scrimmels. Vabbè. Tap, tap. Solo per voi, eh? E' giusto per questo che ho bruciato 30 Gemmi. Mi dovete lasciare per forza e 10 mi piace, per favore. Shelley. 12 Colt, un po' posso fare 4. E 12... Molto bene. Livello 4. Sì, dai, è buono. Questo mi piacerebbe verlo. Vedete, fa così con la mano. Vedi, che cazzo vuoi? Comunque, dai, regà. E spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi invito a lasciare 10 mi piace, perché... Io mi sono impegnato. Ho sprecato 30 Gemmi anche per voi, quindi... Mi raccomando lasciate a meno di 10 mi piace. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bella!